I contenuti di questo materiale didattico sono offerti da terze parti e non da TICMIL e danno carattere puramente educativo, non costituiscono nessun incentivo di investimento. Chiunque intraprenda questa attività lo fa per sua spontanea decisione, assumendosi in tutti i rischi, di conseguenza gli autori a TICMIL non si assumono nessuna responsabilità per eventuali decisioni di investimento prese dai partecipanti e dagli iscritti. Declina ogni responsabilità nei limiti della legge per danni diretti o indiretti connessi a questo servizio. Le opinioni espresse dai relatori non necessariamente rispecchino quelle di TICMIL a meno che non sia stato specificato. All'avvertenza sul rischio, i CFD sono strumenti complessi e comportano un elevato rischio di perdita del denaro in tempi brevi a causa della leva. Il 79% e il 73% dei conti di clienti al dettaglio perde denaro facendo training con il CFD, rispettivamente con TICMIL UK LTD e TICMIL Europe LTD. Valuta se comprendi come funziona il CFD e se puoi sostenere l'elevato rischio di perdere denaro. Allora, il webinar questa sera è presentato da me, Giuseppe Cericola, country manager Italia di TICMIL e come Salvatore Labriola, programmatore e trader indipendente. Allora, TICMIL è un broker non di Lindesk con missione tra le più basse del settore, spread a partire da zero, ha una forte regolamentazione, infatti siamo regolamentati dalla FCA UK con fondi custoditi, incondi segregati e separati dalla società e assicurati fino a 50.000 sterline. Non ci sono limitazioni sui profitti, quindi potete utilizzare tutti gli expert e strategie che ritenete opportune e non ci sono recuote e grazie alla velocità ultra rapida, quindi una media di 0,1 secondo, grazie agli altri 10 server sparsi per il globo, c'è anche la possibilità di avere gli slippage positivi. Ampia gamma di mercati, quindi oltre il Forex copriamo i CFD, i maggiori CFD sugli indici, tra cui il Futsimib, materie prime, metalli preziosi e il Bitcoin. Come strumenti di ausilio al trader abbiamo AutoChartist, la VPS, il One Click Trading, la demo illimitata e aggiungerei anche per i clienti italiani TICMIL il termometro Forex. Non ci sono costi su prelievi e depositi, abbiamo un interessante programma partner di TICMIL che mi invito a visitare sul nostro sito e siamo tra i pochi broker a regime dichiarativo ad offrire anche un'assistenza sul capital gain. Grazie alla collaborazione esterna con due studi commercialisti dove vedete appunto le mail e il sito sulla slide. Questa è la mappa dei nostri server sparsi per il mondo, oltre a quello del Nord Virginia, di Londra e Tokyo ci sono altri di backup. Questa è una tabella comparativa che potete visionare sul famoso sito di MyFXbook dove TICMIL, potete anche visionarlo adesso, vedrete quasi sempre che TICMIL ha la migliore offerta incluse le commissioni, quindi tra spread e commissione, quando vedete il rettangolo illuminarsi di verde significa che TICMIL ha la migliore offerta. Questo, grazie a tutte queste caratteristiche, TICMIL sta battendo una serie di volume di trading, questa di settembre abbiamo superato i 100 miliardi di volume di trading, stessa cosa ad ottobre dove abbiamo superato i 140 miliardi di volume di trading, quindi nonostante ESMA, comunque TICMIL continua a battere record su record. E siamo stati premiati anche come il miglior broker per esecuzione negli ordini, vedete questo signore che stringe il premio, il nostro CEO Duncan Anderson. Allora, io ho finito con la presentazione del broker, adesso vedremo un po' il termometro Forex Pro, queste slide non ci servono più. Allora, intanto per le domande che vedo già adesso in chat, vi invito comunque poi a farle sul finale, il gruppo che vi ho girato è la chat Telegram, quindi ve l'ho inviata prima, potete iscrivervi, è la registrazione gratuita. Allora, questo non è il primo webinar che facciamo sul termometro Forex e sicuramente molti di voi hanno già magari le versioni precedenti, magari in chat anche scrivetelo a chi già sta utilizzando il termometro Forex e le precedenti versioni, che ovviamente vanno più che bene, però in questa nuova versione abbiamo, io in realtà non è che abbia fatto granché, Salvatore ha inserito alcune informazioni utili che sinceramente mancavano e quindi io credo che attualmente siamo arrivati a una soluzione, diciamo, definitiva, perché è davvero, è davvero, è davvero comunque uno strumento molto completo. Allora, questo è il termometro Forex, la nuova veste. Allora, visto che sono scattate le sette, non so quanti di voi hanno appunto visto i precedenti webinar, nei precedenti webinar io ho parlato di una strategia multi-time frame che sto utilizzando col termometro Forex, dove praticamente vado a lavorare sia sul grafico weekly, daily e H4, in modo però separato, quindi ogni time frame ha una gestione separata e dal termometro Forex questa gestione separata viene appunto indicata nelle varie tabelle. Quindi che cosa fa questo termometro Forex? Un piccolo recap sulle funzionalità. Praticamente va a misurare la forza e la debolezza di una determinata valuta in confronto alle altre measure. Quindi ad esempio, prendo la penna, abbiamo in questa tabella euro attualmente un'indicazione n, n sta per neutral, cioè significa che attualmente l'euro per questa sessione H4 non ha alcuna indicazione né di forza né di debolezza rispetto alle altre measure. Mentre possiamo vedere, ad esempio, che la sterlina ci dà un'indicazione di debolezza, quindi significa che attualmente la valuta sterlina è debole contro l'euro, contro il dollaro, contro lo yen, il franco, l'audì, meno contro il CAD e contro l'NZD. Stessa cosa, abbiamo indicazione sullo yen di forza, quindi significa che lo yen attualmente è forte contro l'euro, il dollaro, la sterlina, il franco, l'audì e via dicendo. Quindi in questa situazione H4 abbiamo debolezza sul CAD, forza su NZD, debolezza su sterlina e forza su yen. Allora, io su questo tipo di approccio in H4 ho una gestione contraria, cioè io che cosa faccio? Vado a comprare la debolezza, scusate, e vendo la forza. Quindi, secondo me, un esempio concreto vale più di mille parole, adesso quindi faccio questo tipo di operazione proprio perché alle 7, si trova quindi con l'inizio del webinar, è scattato il nuovo aggiornamento. Quindi, io adesso, se non avessi il termometro Forex e quindi volessi sfruttare questa indicazione di debolezza della sterlina, dovrei andarmi ad aprire tutti i grafici di sterlina, quindi euro-sterlina, sterlina-dollaro, quindi dovrei aprirmi ben 7 grafici e quindi dovrei ripetere questa operazione sia sullo yen, quindi sarebbero 14 grafici, poi sul CAD, quindi sarebbero 21, e fino al neozelandese, quindi sarebbero 28 grafici che dovrei aprire per impostare le operazioni singole. In realtà io che cosa faccio? Con un unico tasto vado a comprare sterlina contro tutti, perché ho detto appunto che in H4, per la strategia che utilizzo su questo tipo di time frame, preferisco comprarla alla debolezza piuttosto che venderla, quindi per comprarlo vado su sterlina e il termometro Forex mi chiede, vuoi comprare sterlina contro tutti? Però fatemi controllare una cosa, la Sites, perché questa è la nuova versione, ok, 0,1, e quindi ho comprato la sterlina contro tutti, a meno che, se mi sono ricordato, perché è la nuova versione, ok, vedete che appunto ha comprato la sterlina contro tutti, lo Yen invece lo vendo, stessa cosa vado sul CAD e compro contro tutti, NZD lo vendo contro tutti. Quindi poi il termometro Forex per ogni singolo cross, quindi cambio, mi fa un resocondo, quindi ovviamente io sono short adesso di 0,01 su Euro Yen, su GPPUSD, poi su GPPYen, su GPPGHF sono short di 0,01, GPPAUD anche di 0,01 e così via. E quindi poi nella tabella, nei vari elenchi successivi, mi va anche a inserire il dettaglio per ogni singola posizione. Quindi io attualmente ho questo scenario, che poi il termometro Forex mi va ad aggregare questo profit o loss nella tabella finale, dove appunto vedete questo loss attualmente, che ovviamente è dovuto alle commissioni, che comunque ho aperto 28 operazioni in meno di un minuto. E quindi la cosa interessante è sicuramente la gestione separata, perché adesso io in H4 ho questo scenario. Io domani mattina, quando scatterà poi l'altra H4, perché in overnight non lavoro, comunque domani mattina scatteranno le nuove candele H4, quindi gestirò i nuovi setup di debolezza o forza in base a questi dettagli. Poi sul daily ho un'altra gestione, e vedete che qui io non ho nessun quadro della situazione, perché qui vedete ho 13 euro che sto perdendo in base a questa strategia, sul daily non ho nulla, perché non ho aperto nulla sul daily, sul weekly invece io dove ho un'altra gestione attiva, che è su questa basata sul cot report, quindi mi invito caldamente a seguire, a andarvi a vedere le precedenti registrazioni, e qui invece ho 26 euro in guadagno, quindi ho questa gestione separata. E credo che comunque questa sia un'ottima opportunità, anche perché si riesce a gestire su un unico conto, questo conto qui, si riescono a gestire una serie di strategie, che io poi ovviamente queste strategie le eseguo sempre con MyFXbook, per avere un riscontro oggettivo e statistico. Allora, io ho finito la presentazione, diciamo in linea generale del termometro Forex, riassumendo un po' quello che fa. Adesso Salvatore, poi ti passerò il terminale, ci farà vedere un po' le funzionalità che sono state aggiunte. Salvatore, ti passo il monitor, segno un ruolo al relatore, ok, vai. Io intanto vediamo un po', per avere questa nuova versione cosa bisogna fare, questo poi lo spieghiamo dopo, funziona in demo, sì, funziona clienti di Tickmill, sia in real che in demo, senza scadenze, senza nessun tipo di obbligo, o volume richiesti, è vostro l'importante che siate clienti di Tickmill. Ma con tutti questi dati, come si estrapola la decisione di aprire un trade? Domenico, devi vederti i precedenti webinar, perché l'abbiamo spiegato, abbiamo spiegato una serie di strategie che si possono attuare, qualcosa ho già fatto vedere prima, e quindi si può, comunque si possono estrapolare diverse indicazioni, a volte basta anche semplicemente vendere la debolezza e comprare la forza contro l'intero basket, perché dovete, molte volte capita che magari Euro-Dollaro lo vedete debole, però in realtà Euro-Dollaro in quel frangente non è detto che abbia guadagnato più di un Euro neozelandese o di un Euro-D, proprio perché in virtù della debolezza di Euro, quello che magari l'info che dà il termometro Forex è che andando a diversificare, quindi ad esempio vogliamo aprire un lotto su Euro-Dollaro, anziché andare ad aprire un lotto di Euro-Dollaro, perché magari la volatilità o la velocità stessa di Euro-Dollaro non è granché, proprio perché è il cambio principale, si può pensare di dividere questa sites andando a vendere l'intero basket, perché magari Euro-Dollaro scenderà di 70 pips, Euro-D scenderà di 140 o viceversa, comunque si riesce a diversificare in questo modo, diciamo, l'informazione di debolezza che si ha su una determinata valuta. Ok, vedo molte domande, però poi ci prendiamo un attimo di tempo, rispondiamo verso la fine, perché altrimenti Salvatore non riesce a spiegare le nuove funzionalità. Sì, allora sei finito, prendo la parola per proseguire. Vabbè, chiaro, io invito tutti a seguire i webinar precedenti per capire un po' le funzionalità a base di questo expert, come è nato, che indicazioni dà e come poter interpretare l'operatività. Abbiamo fatto vedere nel tempo diversi approcci operativi. In questa sera, con il poco tempo a disposizione, cercherò di essere riassuntivo, perché le funzionalità introdotte sono davvero tante, e cercherò di riassumere nel più breve tempo possibile. Innanzitutto volevo ringraziarvi per la presenza numerosa, questo mi rende molto 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 felice e orgoglioso. Evidentemente il mio lavoro suscita interesse ed è apprezzato di questo, mi sono assolutamente contento. Avrete menudo sicuramente di testarlo, mi verrà fornita una versione demo, real per i clienti di Tickmill, per cui tutte le varie funzionalità potreste, non immediatamente capirle stasera, ma con un minimo di utilizzo, è abbastanza intuitivo. eravamo rimasti... Salvatore, scusami, è perché dicono in chat che si sente troppo eco, però soltanto Dario lo segnala. Non è un problema. Io ti sento bene, però non so gli altri. Il monitor lo vedete bene, sì. Il monitor lo vedete bene, sì. Ok, forse Dario è un problema solo tuo, perché gli altri sentono bene. Quindi ok, vai avanti, Salvatore, scusami. Ok, eravamo rimasti a questa release di questo termometro Forex, eravamo rimasti a questi bottoni qui, questi immediatamente sotto le variazioni percentuali. Vabbè, facciamo un po' di spesa così riusciamo a capire. Allora, che ne so, compriamo, compriamo, compriamo il basket euro. Allora, comprando il basket euro, facciamo qualche altra cosa. Adesso un attimo che poi vi spiego. Ok. Allora, ho aggiunto questi altri bottoni che vedete qui sotto. Sostanzialmente, che cosa vado a dire? Vado a dire, per ogni valuta che noi abbiamo comprato, innanzitutto, la colorazione dei bottoni, verde o rossa, se stiamo guadagnando, stiamo perdendo sul relativo cross. In questo caso, euro-dollar lo stiamo guadagnando, euro-sterlina stiamo perdendo. E che esposizione ci abbiamo? Long euro-dollar 0,10, short 0,20 di euro-sterlina, long 0,10 di euro-yen, positivo se è verde, ripeto, negativo se è rosso. Quando le posizioni sono eggiate, il pulsante dell'esposizione complessiva risulta 0, ma è illuminato di giallo. Questo significa che l'esposizione è presente, è neutralizzata, perché abbiamo una long e una short, ma è presente. Su ogni bottone di questo, voi potete cliccarci, chiaramente ho previsto le domandine prima di eseguire l'operazione o la relativa, diciamo così, operatività, in modo tale che ogni volta che voi cliccherete su questo pulsante, vi apparirà prima una domandina della serie. Voglio chiudere, per esempio, euro-dollar, questa è 0,10. Lui mi chiederà, voglio chiudere l'esposizione euro-dollar con un profitto stimato di 3,32 euro in questo caso. Questo ci serve pure per capire, sì, stiamo guadagnando, ma quando stiamo guadagnando? Che ne so, su euro-NZD stiamo guadagnando 1,71 euro. Poi il profitto complessivo del basket lo troverete sempre qui sopra. Qui ci sono altre funzionalità che vi invito a vedere con i precedenti webinar. Qui abbiamo l'esposizione complessiva e qui il profitto generale del basket. In basso, poi inoltre, ho eliminato il tasto qui, c'era un tasto chiuditutto, alla fine l'ho eliminato e ho ritenuto più utile mettere il totale del profit, dell'osso che sto realizzando su tutti i basket. Esempio, apro un altro basket tipo la sterlina, apro un buy di sterlina, ecco, come vedete, appena ho aperto sono tutti quanti l'osso perché chiaramente pago lo spread. Il profitto complessivo, lo vedete qui in giù, non so se riuscite a vedere, è di 26,01 euro, cioè la sommatoria di queste più 9 euro è queste meno 36 euro. Fin qui è abbastanza chiaro, inditivo, è a colpo d'occhio, immediatamente sto vedendo che sul basket euro, scusate, sto guadagnando e sul basket sterlina sto perdendo. Nelle variabili esterne, diciamo, l'unica variabile che ho aggiunto in più, queste poi le andate a trovare nei precedenti webinar perché le abbiamo già spiegate, l'unica variabile in più che troverete sono questi giorni analizzati, o impostato di defolto un periodo di 100 giorni. Questo ci serve per le informazioni che adesso andremo a vedere. Il pulsante, diciamo, scusate, l'indicazione della neutralità, forza, quello che vi ha fatto vedere prima Giuseppe, o debolezza, è diventato un bottone operativo. Che cosa succede quando clicchiamo su questo bottone? Quando clicchiamo su questo bottone mi si apre una schermata all'interno sempre del nostro, del nostro, diciamo, grafico principale in cui che cosa viene rappresentata? Non so se l'ho riuscito a vedere tutti quanti. Viene rappresentata la correlazione degli strumenti facenti parte del basket. Quindi abbiamo cliccato sul basket euro, io vado a vedermi la correlazione di tutti gli strumenti che fanno parte appunto del basket. Quindi, euro-dollar, con euro-sterlina, euro-yen, euro-chf e via dicendo. Al colpo d'occhio, subito, vedo che euro-dollaro diciamo, molto correlato positivamente con euro-yen e questo vi lampeggia, cioè vi viene disegnato con un colore verde. In caso di correlazione negativa, quindi inversa, vi verrà disegnato con un colore rosso. Questo è il tipo di tabelle delle correlazioni, ci sono tanti modi per calcolarli, tanti siti che la forniscono, magari chi è più pratico avrà sicuramente notato che nella colonna, nell'incrocio tra euro-dollaro e con euro-dollaro, spesso e volentieri o si mette un valore nullo o un trattino o un uno, perché chiaramente sono correlati perfettamente, è la stessa cosa, no? Se io vado a correlare euro-dollaro con euro-dollaro, riuscirà certamente un valore uguale a uno o uguale a 100. Che cosa ho pensato di fare? Ho pensato di fare di riempire questo campo che altrimenti sarebbe stato inutile vuoto con un'altra indicazione che è la volatilità. Cioè io ho la correlazione con tutti gli altri cross. Nell'incrocio con se stesso mi vado a scrivere la volatilità su 100 periodi. Facciamo il caso di euro-dollaro. Euro-dollaro nelle ultime 100 giornate si è mosso di 78 pip e 25 mediamente. Quell'altro campo che vedete lì sotto è la volatilità invece di oggi. Cioè mediamente in 100 periodi ha avuto una volatilità media di 78 e 25. Oggi ha fatto 84 pip e così via per tutti gli altri gli altri cross. Chiaramente potete aprire anche altri diciamo altri altri grafici di correlazioni tipo il dollaro lo posizionate dove volete chiaramente in base alla vostra finestra immagino che se volete dare volete avere una informazione una volta letta questa informazione poi che fate? Chiudete direttamente i basket scusate questi specchietti e siete di nuovo sull'operatività. Questo ho fatto in modo cioè ho fatto questa cosa per evitare diciamo così di andare sui vari siti e perdere tempo. L'idea di fondo di ogni expert advisor ma è questo in particolare è quello di combinare l'indicazione quindi le indicazioni le informazioni con l'operatività cioè io clicco un bottone e ho un'informazione o un'indicazione e immediatamente devo essere operativo chiaramente un expert in cui voi se non cliccate assolutamente nulla non fa nulla non si possono fare backtest ma questo l'ho già spiegato nelle precedenti webinar diciamo ho detto tutto relativo alle variabili esterne volevo passare a un aspetto dove ho congenerato maggiore attenzione che è quella di perché me l'hanno chiesto in molti cioè quello di vedere sia la forza della vebolezza dei basket quindi da quando tempo è forte da quando tempo è debole allora ho pensato bene di darvi un'indicazione molto 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 utile che non è nient'altro che il grafico del basket come si apre questo basket questo 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 grafico basta cliccare su questo nuovo bottone che ho inserito open chart lo vedete chiaramente vi devo fornire anche un indicatore scritto per l'occasione cioè un indicatore che è destinato e dedicato a essere condiviso con questo termometro forex cioè l'expert deve leggere nella vostra parteforma ci deve essere per forza questo questo indicatore perché l'indicatore fino a se stesso da solo non sarebbe assolutamente a nulla le prime volte che lo utilizzerete già lo so arriveranno le domande ma è molto lento è molto pesante è solo una questione di scaricamento degli storici e utilizzo dell'expert man mano che lo utilizzerete man mano che avrete i grafici l'expert si renderà molto 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 iniziamo ad aprire un grafico tipo per esempio euro-dollaro scusate basket euro che cosa vedete qua sotto in basso chiaramente lo potete diciamo alzare diminuire come volete non so se lo riuscite a vedere tutti io ho un monitor molto piccolino ok che cosa abbiamo qui abbiamo il grafico su base candlestick del basket euro chiaramente ho fatto una mia pesatura dei vari dei vari dei vari componenti è uscito fuori questo tipo di grafico è un grafico in cui voi potete osservare assolutamente già potete fare una sorta di analisi operativa sull'intero basket questo è valido sia per l'operatività di medio lungo periodo sia per come lo utilizzo io anche per il breve termine due o tre indicazioni diciamo di veloci e immediatamente operative la variazione diciamo percentuale di questa candela cioè dell'ultima candela rispetto alla precedente sta facendo più 0,06 la variazione rispetto all'inizio dell'anno questo RMR non è nient'altro che uno studio sulla volatilità ovvero questa candela che sta facendo adesso adesso siamo su 4 ore ha già percorso il 66% della sua volatilità media questa è un'indicazione che per me è molto utile per capire che tipo di operatività diciamo implementare cioè se io ho questo può superare anche il valore del 100 del 100% può arrivare al 150 200% a seconda dell'ambienza della candela io che cosa faccio mi vado a vedere le ultime n candele nella fattispecie sono le ultime 50 candele mi vado a calcolare un range medio cioè mediamente la candela in quanti pip ha fatto in quanti punti si è mosso attualmente quando quanti punti la candela di adesso quanti punti ha già fatto tra minimo e massimo attualmente mi rappresenta in questo caso siamo a un 66% rispetto al range medio in alcuni casi potremmo trovare adesso poi magari se ci capita l'occasione potremmo trovare che diciamo la volatilità di questa candela è già andata ben oltre ogni limite diciamo medio a quel punto lì piuttosto di valutare un acquisto pensarei più a fare un'operatività contraria per un discorso di ritorno delle 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 votazioni però sono sempre solo delle indicazioni poi lascio a voi la massima libertà nella interpretazione di questi di questi dati certo qualche indicazione ve la do l'ho fornita io quindi cioè l'ho costruito io quindi qualche qualche dritta ve la fornisco ho aggiunto in questo grafico una serie di salvatore se tu vedi quel rmr al 150% significa che ha già il percorso il 150% della delle delle persone della media e quindi lì magari sarebbe più indicato andare contrario e questo però chiaramente faccio un esempio dove poteva capitare questa cosa io già l'ho vista così eccola lì ecco questa in questo caso quando inizia la candela ok inizia con il 20% il 30% man mano che sale qui molto probabilmente saremo arrivati intorno al 200% a questo punto qui pensare di comprare il basket a questa altezza qui certo a meno che di rotture di resistenza particolari insomma notizie particolari ma io qui più che altro lo sfrutterei al contrario cioè piazzando delle sell limit che adesso vi faccio vi faccio vedere come si fa allora andiamo avanti allora i tasti funzionano che cosa servono allora il tasto euro vabbè ci dice che stiamo vedendo il basket euro cliccato cliccando sul tasto euro mi chiuderà la finestra quindi sono costretto a riamarla eccola qua euro volendo si può applicare una griglia una griglia visiva per vedere i livelli di prezzo man mano che le imbicciolite potete togliere questa griglia rimetterla per vedere meglio i livelli di 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 intervento io lo utilizzo così mi trovo meglio così e lo lasciamo così gli altri tasti sono abbastanza intuitivi sono tasti operativi cioè io che faccio una volta che ho fatto l'analisi tecnica sul grafico questo è un semplice grafico cioè semplice è un grafico candlestick del basket una volta che ho fatto la mia analisi perché no implementare la mia operatività su base grafica e allora mi sono inventato questi pulsanti buy limit buy stop sell limit e sell stop che li vedete qui abbastanza intuitivi ipotizziamo che adesso secondo me il mercato dico per dire adesso è sceso abbastanza io voglio piazzarmi delle buy limit o mai una buy limit clicco il tasto buy limit che cosa apparirà andiamo un po' la vedete qua sotto c'è un'etichetta la vedete non so se l'hai riuscita a vedere questa buy limit è cioè questo questa etichetta che ho creato questa etichetta piccolina è il livello di prezzo cioè quando sta battendo adesso il basket sta battendo 67,40 punti ok al raggiungimento dell'etichetta impostata quindi buy limit io praticamente comprerò tutto il basket euro segnalata cioè quindi non si sta facendo una buy limit di euro dollaro cioè lì tu stai facendo una buy limit di tutto il basket di tutto il basket qua stiamo ragionando sul basket mitico tutto quello che faccio qui sopra è relativo a tutto tutto il basket solo che prima che potevo fare potevo comprare il basket potevo vendere il basket al mercato cioè in quel momento in questo modo io posso decidere dei punti in cui comprare il basket cioè al raggiungimento di questo livello comprami ottimo ottimo ed è una cosa che secondo me è eccezionale perché io tu hai fatto la media hai fatto la media dell'indice cioè hai creato un tuo indice valvisario esatto e quindi quando va quando tocca quell'etichetta che quindi è la media dell'indice che tu hai ricavato ti dici io compro tutto il basket io compro tutto il basket io non lo sapevo questo nel senso che comunque non è per me anche per me la prima volta quindi che succede che succede io ho piazzato la buy limit volendo la buy limit la potete piazzare anche qui guardate la posso piazzare anche qui sotto per andare a prendere il livello preciso mi piace questo minimo lo voglio andare a piazzare qui la posso lasciare anche qui l'etichetta l'importante è che chiaramente quando fate questo trascinamento non andate sopra il prezzo perché se trascinate sopra il prezzo lui capisce che deve entrare e quindi entra quindi un minimo di accortezza quando utilizzate queste etichette che succede allo scadere del minuto vediamo un attimo se arriva un tic ecco allo scadere del minuto lui adegua quel livello ve lo mette in linea con il prezzo in modo tale che voi avete sempre presente che cosa sta facendo che tipo di operatività c'avete non solo abbiamo impostato solo una buy limit che cosa succede? una volta impostata la buy limit il tasto diventa verde qui quindi questo significa che c'è una qualche operatività e nel nel termometro forex quindi nel nell'expert vero e proprio il tasto di riferimento del basket chart si illumina si illumina cioè diventa il colorato di giallo questo significa che c'è una sorta di operatività su quel grafico questo perché ve lo dico ve lo dico perché voi una volta che avete impostato la vostra operatività io posso anche chiudere questo specchietto l'operatività è registrata quando quindi vedo questo questo tasto illuminato c'è una qualche operatività mi raccomando di non dimenticarvelo oppure fatelo con consapevolezza perché l'expert sta ragionando quindi al raggiungimento di quel livello di prezzo io entrerò se non mi ricordo io clicco di nuovo sull'open chart e lui semplicemente mi ripropone la situazione di prima cioè guarda avevi impostato una buy limit a 65,84 fino a qua è tutto chiaro? se ci sono domande si 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 molto chiaro molto bello e ci mancava nel senso perché comunque si molti dicevano ok solo comprare o vendere a mercato ma andarlo a fare sui livelli è qualcosa che comunque soprattutto sui livelli dell'indice è molto molto figa come cosa si molto ok stesso identico funzionamento chiaramente se la voglio cancellare o la cancello da tastiera oppure riclicco su buy limit e lui mi spegne il pulsante e chiaramente mi aspetto anche vedete qui sopra l'open chart mi aspetto perché non ho più operatività qui sopra ok stessa cosa per laser limit laser stop qui la metto un po' in basso però basta muovervi la buy stop e la buy limit l'abbiamo vista prima cioè io posso fare anche questo tipo di approccio però poi andiamo un po' un po' oltre però in teoria chi prende dimestichezza può fare determinate operatività calcolate che potete fare una buy limit una buy stop una sell limit una sell stop cangello tutte le etichette i lotti rimangono sì i lotti rimangono sempre quelli impostati dalla variabile esterna sempre da 010 proseguendo con i tasti funzioni che cosa abbiamo ipotizziamo che voglio fare una buy stop qui mi vado a mettere diciamo a una certa distanza no? ecco qui ok voglio fare una buy stop lì sopra che succede che il prezzo chiaramente quando raggiungerà quel livello automaticamente mi comprerà pensate che significhi che significa questa operatività se vado a mettere queste buy stop a rotture di resistenza cioè vado a individuarmi una resistenza sul grafico alla rottura di quella resistenza io entrò entrò a break è una cosa che prima non si poteva fare adesso sì ma non solo sono andato molto oltre ho pensato ma perché visto che faccio questo tipo di approccio non penso a un approccio anti martingala o martingala quindi facendo una piramidazione sul basket e questa cosa la potete fare facendo questo io ho piazzato una buy stop c'è questo tasto che lo vedete qui non so se si riusci a vedere sono due frecce che si ringorrono è il tasto repeat questo tasto repeat cliccato il tasto repeat non fa nient'altro che replicarmi un'altra etichetta quindi un'altra buy stop in questo caso alla stessa distanza a cui l'ho programmata l'ho settata cioè io posso mettermi qui vedete più vicino la cangello la ricreo ecco me l'ho ricreata qui che cosa farà in questo caso con il tasto repeat acceso ogni qualvolta entra questa prima buy stop che vedete qui automaticamente mi farà questo passaggio da qui passerà qui sopra della stessa distanza cioè io posso andare a piramidare il basket chiaramente per fare queste cose è ovvio è inutile che lo dico ci servono dei conti abbastanza capitalizzati perché ogni qualvolta voi andate a comprare andate a comprare in questo caso 0,70 0,70 volti quindi insomma però facendo i dovuti i dovuti calcoli voi potete piramidare l'intero basket ed è una cosa scusate Salvatore quel tasto repeat mi entra il primo poi esatto lui mi va allora facciamo fin da che ti entri il primo no? è entrato quindi ha cancellato la sua etichetta questa buy stop che era settata qui scusate un attimo solo che vi ripeto l'operatività eccolo qua entra il primo la prima buy qui a 68 e 61 automaticamente fa questo passaggio ok si ripete quindi sempre sempre a distanza prefissata ed è un modo per piramidare non solo un cross ma tutto l'intero basket questa cosa qua la potete fare con questo con le buy stop e le 6 stop fate un sistema anti martingala ma se fate sulle buy limit avete fatto l'anti martingala c'è la martingala scusate la martingala scusate ok ecco buy limit questo tasto qui ripeti io cioè rimane attivo quindi mi fa questo passaggio diciamo il lupo fino a quando io rimane attivo e rimane sempre attivo quindi in teoria potreste se non lo dimenticate farete buy limit infinita fino al riempimento delle vostre disponibilità quindi bisogna per questo ve lo diamo in demo senza scadenza senza nessun obbligo ad aprirvi il real perché questo strumento qui deve essere capito cioè questo è per professionisti non è che vi mettete senza capirlo domani con aprite il conto e vi mettete a fare training senza aver compreso bene tutti i passaggi è uno strumento di un certo tipo e quindi va capito e oltre ai webinar ovviamente va fatto un periodo di di training sul sul conto demo e poi vi ho detto c'è c'è la chat telegram noi ogni giorno siamo lì noi stessi lo utilizziamo quindi per qualsiasi cosa poi potete per qualsiasi domanda eh chi sa senza esatto ok fin qui credo che sia tutto chiaro ora ipotizziamo che è entrata una buy limit oppure nel nostro caso noi abbiamo già il basket diciamo così operativo nel senso abbiamo già qualche operazione nel basket anche se non è completo il basket cioè io potrei anche chiudere questa questa operazione chiudemi queste e via dicendo no ho solo queste operazioni io potrei anche gestire graficamente che cosa dove prendere profitto e dove prendere eventualmente i loss io ho il basket adesso come si trova si trova long quindi ho delle buy sostanzialmente ho fatto l'ho comprato il basket posso impostare una linea di profit delle buy quindi stiamo parlando sempre di graficamente che cosa fa mi crea una linea la vedete qui anzi se mettete f8 mostra descrizione oggetto questa ve la segnala pure profit buy molto intuitivo al raggiungimento di quel livello porta a casa tutto il profitto del basket cioè di quelle posizioni che io ho aperto magari dalla tabella a mano anche di quelle che hai aperto tu discrezionalmente qui quindi adesso io qui non ho settato per chi non ha visto i webinar precedenti qui non ho non ho settato una chiusura a pareggio non ho non ho settato un trading stop sul base profit di questo di questo basket in questo caso gli ho detto guarda il basket è long mi va da mettere una linea di profitto delle buy dove beh vabbè mi sono andato a individuare una resistenza magari la metto poco qua sotto non so quando guadagnerò lì perché non posso fare questo tipo di calcolo ti sfido salvatore ti sfido mettila adesso vicino al prezzo vediamo se chiude così se c'è un qualche bug eh se c'è un qualche bug sì perché poi mi invito mi aiutate pure perché in effetti di lavoro ce n'è però questo è un H4 vediamo un po' che questo è veramente adesso quant'è 67 adesso è 67 538 non posso anche esaltare da qua vediamo un po' è risposta anche alla domanda di domenio che chiedeva dove si mettono i stop loss dei take profit come nico le profit line questo Pietro non c'è sulla pagina di TICMIL perché questo è solo per i clienti italiani quindi noi ad esempio chi è cliente fuori Italia non ha diritto al termometro Forex perché questa è una partnership interna che è con Salvatore però poi alla fine per questo non me ne andate vi diciamo come averlo vediamo un po' l'ho messo molto molto vicino chiaramente non è questo il tipo di operatività non è che dovete mettere se dovete chiudere a questo profitto chiudete direttamente cliccando il pulsante non ha vabbè questo l'ho per vedere eh guardate io ho impostato un livello di prezzo a 67 89 lo vedete qui 67 89 il basket sta quotando 67 e 63 attenzione che si muove cioè si può muovere anche di tanto eh perché basta un cross all'interno del basket che magari esplode e fa volare il prezzo questo poi chiaramente man mano che lo utilizzate lo lo ed è questa è la logica che c'è dietro perché non puntare solo su un singolo cambio ma andare a appunto a diversificare perché se l'euro magari adesso è forte noi non sappiamo contro chi è forte se è forte di più sul dollaro o contro o contro lo yen e quindi andando a diversificare abbiamo diciamo non un vantaggio però comunque si può si possono trarre dei benefici da quei cross che magari sono dei correlati tra loro e corrono di più non ci fa la grazia come al solito 67 67 ma adesso scusa se chiudi quel euro e apri sterlina e vai a mettere lo stoppolosso sulla sterlina lo tiene in macchina giusto? assolutamente sì ecco dovrebbe essere andato ecco l'ho fatto complimenti sì ha chiuso ok nei consiglieri troverete close basket euro per raggiunta profit line long adesso vai a mettere lo stop sul basket sterlina allora io esatto che prima mancava questa informazione la sterlina sono long giusto? esatto allora vado a mettere un loss delle buy quindi schiacci su buy perché è un rimbicciolino perché io per evitare errori lo metto al minimo quindi ingrandite l'imbicciolino la linea c'è quando si accende il pulsante qua vedete la metto in basso in basso in basso in basso proprio per evitare errori in modo tale che la potete andare a posizionare questa è la linea delle loss buy vedete ok mettilo sotto proprio il minimo assoluto vediamo se regge non quello l'altro questo? no no il minimo assoluto proprio dell'indice questo? no c'era un altro di minimo no non ci arriverà mai ah beh non per oggi però per vedere se funziona pensavo che voglio farlo vedere no no cioè pensavo che voglio farlo vedere al volo ah beh no no fallo vedere hai ragione fallo vedere vediamo se funziona anche però in effetti l'utilizzo è proprio questo no? cioè avete individuato su un H4 un livello di supporto che succede? che al raggiungimento di questo se mi buca questo minimo praticamente mi sbatterà fuori questo o questo minimo se avete individuato questo questo è un conservatore anche se sempre per a livello appunto per far capire bene un po' la funzionalità allora metti uno stop vicino e poi metti un self stop del basket del cable sul livello dello stop allora e vediamo se lo prendi mettilo lì e gli metti una self stop del basket qui sotto no 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 sullo stesso prezzo cioè quindi dovrebbe chiudere un po' più basso cioè quindi adesso dovrebbe chiudere in stop quelle posizioni e fare un reverse giusto? esatto dovrebbe trovarsi nelle condizioni appunto di chiudermi tutte le long perché c'è uno lost buy e poi se mi tocca chiaramente quel livello di self stop dovrebbe andare a short e questo è un modo molto 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 interessante per poter interagire con i basket perché è una cosa che sinceramente mancava prima potevi fare solo la buy o la short a mercato adesso potete intervenire fare analisi grafica e intervenire direttamente sul grafico una domanda una domanda molto interessante di Max che è sempre avanti Max complimenti l'avrei fatta anch'io perché proprio gestisco in multi time frame gestandola in multi time frame questo tipo di Max chiede in questo caso l'expert gestisce l'operazione nel time frame H4 o gestisce anche l'operazione aperta nel time frame H4 cioè quindi è solo dell'H4 giusto? sì perché se vi ricordate se vi ricordate nelle vecchie questo questa situazione è di H4 perfetto se io ti ho time frame chiaramente è in memoria l'operazione cioè vi faccio capire guardate noi abbiamo impostato questa cosa no? io che faccio? chiudo il basket o scusate il chart vado sul daily sul daily che c'ho di stevrina? niente assolutamente niente perché l'abbiamo aperto su H4 giusto? ritorno su H4 lui automaticamente mi ripropone la situazione vedete che il tasto illuminato su 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 sterlina allora apro il grafico e in teoria ecco qua mi ritrovo con la stessa posizione quindi lui ragiona è importante perché così io posso gestire separatamente in modalità multi time frame ottimo è scomando non ci cдаo grazie scomando però magari ma no avvicinano proprio al prezzo così poi tu hai spiegato tutto adesso delle nuove dovrebbe dovrebbe essere andato spero un po aspettate perché l'ho tenuto premuto io no no è chiaro questa è questa è una cosa che non dovete fare cioè una volta che avete impostato il che cos'era il nostro delle baino mosso delle mai è fatto bene perché adesso stanno guadagnando una volta che dimostrate quando voi trascinate questo lui non legge voi dovete rilasciarlo il click perché altrimenti non legge adesso in teoria non si dovrebbe lavorare così una volta che l'avete lasciata qui la linea non dovete andare più a più a toccare potete muovere una volta che avete stabilito il livello però con il prezzo vicino bisogna stare saltando perché se ci passa sopra io tengo il pulsante premuto può dare problemi ok poi al limite se allora adesso voi lo provate prima in demo ovviamente le versioni precedenti funzionano bene io stesso le sto utilizzando questa versione qui che è molto articolata quindi magari non è per tutti perché comunque ci sono parecchie funzionalità però magari lo provate bene l'ho testata avete tutto il tempo di provarlo e poi ci segnalate eventuali bug se dovessero esserci in modo tale che poi salvatore può eh assolutamente assolutamente chiaramente potete fare questa cosa potete fare anche questa cosa io c'ho il basket stellina sopra no e c'ho il basket euro sotto potete fare anche chiaramente compatibilmente con il vostro monitor io non so che monitor c'avete però potete fare anche questa cosa una sola cosa vi volevo farvi capire che nel momento in cui metto una buy profit anche se adesso non so se si vede ma l'open chart si è illuminato il colore interno di questi flag si sono illuminati quindi occhio perché quando il colore di default è giallo quando cambia colore o la scritta oppure lo sfondo c'è un'operatività c'è una qualche cosa sul basket chart quindi attenzione perché magari potete vi potete vi potete convonti io chiudo il basket euro ecco adesso non so se si vede ma questo è un verde acqua mi sta a indicare che lì sopra ho dimenticato qualche cosa oppure c'è qualche cosa e infatti c'è passa da giallo più o meno a verde acqua e si poi sul vostro monitor sarà molto più più visibile ok saranno che ne pensate di queste nuove funzionalità max bello allora max chiede la voce sul grafico rmr al momento il 127 per cento potresti spiegare meglio questo aspetto cioè il 127 per cento della candela precedente tra il lo e ai oppure apertura e chiusura allora praticamente è la come dire il rapporto chiamiamolo così tra questa candela quindi come ai logo quindi minimo massimo rispetto a un suo valore medio che in questo caso se non ricordo male potesse 50 periodi o vende o 50 ma adesso non ricordo con precisione che cosa ma mi chiede 50 periodi quindi questa candela ha già fatto il 127 per cento in più cioè in più il 127 per cento del suo range medio è in effetti è stata una candela se ci fate caso adesso non so se si vedete però ha avuto una bella spike qui la potete mesurare qui è una candela da 0 58 la media probabilmente se volete come possiamo pure vedere eccolo qua ecco qua il basket range questi due buffer qui no il basket range era di questa candela è 0 56 in la media di delle ultime 50 candele era 0 44 quindi è dato oltre il valore medio ecco perché c'è il 127 per cento che cosa c'è lì andava un prato e sostanzialmente ero in un'attività contrario ormai già già lo ha fatto ma quando mi trovavo qui mi indicava qualcosa come 110 115 allora magari potevo piazzarmi pure una by limit su questo limit su questa su questa candela qui la vedete o anche su questa perché perché aveva superato già ampiamente la sua volatilità media quindi mi aspetto che in quella candela possa rientrare tant'è che in uno scenario ribassista quale questo della sterlina io andavo a fare una micro speculazione micro per modo di dire perché da qua qua è tanto però l'andata a vedere potevo fare una una diciamo una un acquisto su un rientro della candela che è esattamente quello che sta facendo adesso ipotizzando di averla fatta qui non so se mi sono reso via se ora vi rigiro di nuovo il link della chat telegram e poi per chi vuole informazioni su broker perché lo state chiedendo in chat vi lascio anche la mia e-mail poi possiamo organizzarci per delle call anche quella di salvatore salab 76 com'è la tua il punto ok ok allora non andate via perché adesso io vi dico però questo non lo registro come avere il webinar non lo registro perché semplicemente poi magari chi si vede la registrazione magari se la vede tra un mese e non è più attiva la procedura per averlo quindi adesso io ve lo dico tra poco e tu salvatore devi aggiungere qualcos'altro io credo di aver detto tutto cioè nel senso quello precedente è il volevo fare un piccolo una piccola precisazione sulle correlazioni cioè quel valore esterno quella variabile esterna a 100 periodi io sto vedendo la correlazione a 100 giorni questo 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 parametro è importante perché praticamente è il parametro sul quale si base si basano i calcoli della correlazione cioè quando io poi clicco sulle correlazioni è la correlazione a 100 periodi è la volatilità media a 100 periodi quello che è che è indicato qui 78 e 25 se switchiamo su time frame minori e vado a cliccare su correlazioni come vedete il valore lo stesso 78 e 25 perché vedo la volatilità giornaliera non vedo non vedo la volatilità su base time frame questo mi serve come indicazioni per capire oggi che cosa mi possa aspettare ok allora adesso io chiudo la registrazione e vi dico come averlo ok grazie a tutti